Per catturarli ci sono voluti diversi mesi di indagini e decine di appostamenti delle forze dell'ordine. Un gruppo specializzato nella vendita di stupefacenti operanti ad Altamura e nella provincia di Matera. A scrivere la parola fine sulla storia della banda ci hanno pensato i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile che questa mattina hanno arrestato tre persone in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Bari su richiesta della procura. In manette sono finiti un 45enne di Altamura, un 30enne ed un 38enne di Policoro, volti noti alle forze dell'ordine. Sono loro, in base a quanto ricostruito nel corso dell'attività investigativa, ad aver messo in piedi una lucrosa attività di spaccio di vari tipi di droghe, dalla marijuana all'eroina, nella città murgiana ma che spesso riforniva anche le piazze del litorale ionico lucano. Decine le cessioni di stupefacenti documentate dagli inquirenti nel periodo compreso tra i mesi di giugno e novembre dello scorso anno. Delle prove schiaccianti che hanno permesso alla procura barese di spiccare i provvedimenti restrittivi. Nel corso dell'operazione, eseguita nei comuni di Altamura e Policoro, con l'ausilio dell'unità cinofile, i militari hanno sequestrato complessivamente 90 grammi di eroina, 30 di marijuana e decine di dosi spacciati al dettaglio. Per i tre si sono aperte le porte del carcere di Bari, mentre per un quarto complice, un trentenne sempre di Policoro, è stata emessa invece la misura dell'obbligo di dimora.